Anche il ministro degli esteri è scettico, la riforma è tutt'altro che entusiasmante, a me sembra peggiorativa. Di Battista, strumento obsoleto come il leader azzurro. Tra i parlamentari di FI scoppia la protesta dopo le parole del Cavaliere. Orlando Pidi, Berlusconi è tornato all'ovile e la riforma del MES è tutt'altro che entusiasmante, a me sembra peggiorativa. E noi il salva stati non lo useremo perché c'è il Movimento 5 Stelle. Non ci sono i numeri in Parlamento per sbloccarlo. E un dibattito che non esiste, il MES non si usa. Così il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook, all'indomani della burrascosa informativa del ministro dell'Economia Gualtieri alle commissioni di Camera e Senato. Una riunione durante la quale il titolare del Tesoro ha ricevuto critiche non solo dalla Lega, ma anche da una fronda di grillini dissidenti. Ma al no della M5S all'uso del MES si aggiunge il no di Forza Italia alla riforma di questo stesso strumento. Il 9 dicembre non sosteremo in Parlamento la riforma del MES perché non riteniamo che la modifica del meccanismo di stabilità approvata dall'Eurogruppo sia soddisfacente per l'Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo, fa sapere Silvio Berlusconi, in una nota. Parole che hanno suscitato la protesta e il malessere dei parlamentari azzurri, spiazzati dalla scelta dello loro leader di votare contro la riforma del MES. Subito dopo la nota del Cavaliere, le chat di Forza Italia sono esplose.In molti hanno ricordato come per mesi fissi sia battuta a favore del MES, tanti di loro fanno anche parte dell'intergruppo favorevole al MES. Quindi hanno chiesto un chiarimento immediato alle due capigruppo, che però avrebbero deciso di rinviare un confronto. Tenerlo oggi avrebbe comportato il rischio di spaccare i gruppi. Ma il vicepresidente azzurro, Antonio Tajani, in un tweet precisa, le preoccupazioni di Berlusconi sulla riforma del MES sono più che fondate. Giusto non sostenerla. È una scelta che non ha nulla a che vedere con il SIA l'utilizzo dei 37 miliardi per azioni anti-cancelletto Covid-19. Da quanto si apprenda da fonti della Lega, Matteo Salvini ha accolto positivamente la nota di Silvio Berlusconi. E, fa sapere il partito, il centrodestra si conferma con patto, dopo il voto sullo scostamento, trova una sintesi su un tema molto delicato come il MES che ancora divide la maggioranza.